Lascia un mi piace se vuoi un altro compro il primo giocatore settimana prossima E dici chi è più forte qui sotto nei commenti tra Quaraskelia e Rafa Leao Ma che devo fare con questa squadra? Antò? 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 Ma chi è Antò? Io sono Andrea Eh a voi è la stessa cosa ma che stai facendo? Ma che è questa squadra? Ma devi fare una squadra decente, comprati i crediti Ma che cosa? I crediti dove? Ma ti dico io un sito Vai su Frenzy FC, seleziona la console che usi, scegli quanti crediti vuoi, compila tutti i passaggi e aggiungi al carrello Non dimenticarti di inserire il codice Antò per il 15% di sconto Trovi il sito nel primo link in descrizione Bella ragazzi carichi come non mai da FuseGamer Oggi ragazzi siamo qui con un video incredibile perché oggi ragazzi si ritorna con il compro Nel primo giocatore con un ospite specialissimo Quaraskelia Non ci credo ragazzi Che ne pensi? Non ci credo Che ne pensi che l'ospite speciale è lui e non tuo? Quaraskelia è l'ospite speciale Sì Sta là dietro Ti saluto Abbiamo Scialebum Non ci credo Scialebum Incredibile ragazzuoli Oggi l'ho approfittato visto che abbiamo il giocatore più forte della Serie A Ho chiamato un altro tifoso del Napoli come me Quindi Enzo Allora, le regole del compro primo giocatore le sai Intanto sta scadendo l'asta questa qua per Quara Costa più o meno 900.000 crediti Facciamo Georgia o Serie A? Allora, purtroppo Quaraskelia è di una nazionalità particolare Sarebbe bello vedere tutti i georgiani ma io ti dico Serie A Sapete le regole che se andiamo a perdere la partita non andrà a scartare Ma prima vi devo far vedere una cosa Come al solito ci facciamo una bella sbustatina su Footluck Mi raccomando ragazzi se volete depositare i vostri crediti usate il codice ANTO E avrete il 20% di sconto sui vostri crediti depositati Per i pochi che non conoscessero Footluck Praticamente è un sito dove appunto aprite i pacchetti E nel caso in cui scullaste ve li passate sul vostro account Why you offerta a tempo limitato Se acquisterete un milione come leggete ve ne verrà dato un altro in omaggio Quindi occhio a questa offerta Proviamo appunto a depositare un milione di crediti In questo caso costeranno 112 euro Ma se userete il codice ANTO su 112 euro Guardate quanto sconto 22,40 euro Why you nel caso in cui andaste a vincere Andate sulla sezione ritirarsi per appunto ritirare i vostri crediti Mi raccomando leggete bene tutti i procedimenti Leggete attentamente E completate queste caselle di indirizzo email Password del vostro account I codici di backup che troverete sul sito di Origin Una volta andati su Origin Andate nelle impostazioni dell'account Sicurezza Visualizzate i vostri codici di backup Li copiate e li incollate Tutti in quella casella Molto bene Io direi di iniziare come al solito Con il nostro player pick Perché ci sono anche player pick Guardate con quanti crediti Io inizierò con questo da mezzo milione Che come al solito Ci porta bene E andiamo dentro Con il player pick Ti prego Footluck Ti prego Footluck Oddio Zona Un milione di crediti Why you è quello che vale di più Sì un milione Vamos Io direi di iniziare subito forte Con un pacchetto da 125.000 crediti Alan in copertina Ti prego Ti prego Footluck 125.000 crediti Vamos No 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 90.000 90.000 Vabbè Non ci è data bene però Non mi ha perso poco Non so voi ma a me Attira molto questo qua Da mezzo milione Di crediti 12 giocatori Tutti 89 più garantiti Oddio Oddio In teoria sono tutti 89 più garantiti Andiamo a vedere 300.000 Sì 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 Va bene, va bene, va bene Ok, 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 ok Dai, 150.000 crediti e un buon profit Godo, godo e godo Allora, quest'anno non abbiamo ancora aperto questo qua delle icone Col milione e mezzo ci possiamo fare un bel profit Ti prego Una gioia, non voglio guardare, non voglio guardare Non voglio guardare, è andato Oddio Sì, sì, un milione e otto Godo, mamma mia, sono tutti icon bellissimi Mamma mia, che bello sto pacchetto Io direi che dobbiamo concludere al meglio Pacchetto Fusegamer da 2 milioni di crediti, il meglio del meglio Sì, 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 siamo i meglio, siamo i meglio Forza, forza Footluck Fammi godere, fammi godere Fammi godere, fammi godere, fammi godere, fammi godere, fammi godere, fammi godere mezzo milione Godo, godo quanta bella gente, goduria totale Voglio vi lascerò Footluck in descrizione, mi raccomando Ho 20% di sconto se utilizzerete il codice ANTO Mi raccomando, approfittatene E adesso andiamo dentro con il video Enzo, quindi mi andrà a comporre Una bella serie A Una bella serie A, sei pronto? Occhio ai prezzi Occhio ai prezzi, ti dico Aspetta però, ho un'idea Aspetta, c'è il pacchetto da 225 mila Non ci credo Che le pensi? Che se mi esce di un giocatore speciale lo andrò a mettere anche nella formazione con Quara? Per forza Ok, walk out COC Immagini mi usciva Quara Maron No, Bundesliga, penso sia Musiala Musiala, Musiala Questo già l'hanno usato Quindi l'hanno già No, non l'hanno usato Ok, andiamo a comprare questo 898 mila crediti No, non è possibile 900 mila crediti Eccolo qui Il nostro Kvitcha Kvaratskelia La S quindi già ce l'abbiamo Sarà un 4334 con il COC Enzo, portiere, prezzo minimo Vai, iniziamo Allora, portiere, serie A Prezzo minimo Prezzo minimo 30 mila Azz 30 mila crediti E allora andiamo a vedere subito il portiere di serie A con 30 mila crediti Non c'è Enzo Talmente che facciamo cagare in serie A Voliamo a mettere 20 mila Hai mettere 20 mila Ok, 20 mila c'è Ed è Mike Magnan Eh, vedi Vabbè, è puntato subito forte al portiere più forte della serie A Che ne pensi? Sì, sì, sì Terzino destro Dopo aver comprato Magnan Allora, terzino Io lo sto vedendo, eh, nel frattempo che ci sta in serie A Quindi mi sto facendo un'idea Allora, terzino destro Io ti dico Minimo 5 mila crediti Mamma mia C'era proprio basso, dici tu Terzino destro Oh, c'era Posh Ma c'è uscito Danfris Ok, va bene Che è veloce come una Posh Difensore centrale Difensore centrale Allora Tra i più forti c'è purtroppo Varana Lucio pure SBC che non si può trovare Ci sta Lucio, ci sta Cordoba Ti dico minimo 70 mila crediti Voglio essere buono Minimo 10 mila crediti Va bene, va bene Non è detto però Attenzione Alessandro Bastoni Vai TS Ma ci esce Teo Guarda Terzino sinistro Minimo Ti dico 25 mila crediti Oddio 25 mila Di Marco Godo Almeno Almeno non è Teo che vale mezzo milione quello la oro Ci sta Di Marco Ma assomiglia anche Ma perché avete pochi capelli Tutti e due Sì siamo stempiati entrambi Ciao Di Marco Cici Eh Ce stanno due buoni Anzi tre Ma voglio essere Ma non lo so Perché ne sono due Quindi uno te l'ha già fa pesante Un altro no Facciamo così Il primo meno pesante 5 mila crediti Minimo Vediamo 5 mila crediti Non ci credo ragazzi Ma chi si Il proprietario del campo dove giochiamo alla youtuber league Non ci credo Bove Bove Grande Bove Bove Argento Non ci voglio credere Incredibile Grande Bove 74 66 Velocità Wow frate Hanno fatto Oh Che carrucino Wow Che schifo Frate Facciamo prima il COC Dai per variare Poi rifacciamo l'altro il CC Vabbè comunque COC 20 mila crediti Temuto il peggio 20k Guarda le chiamate Fra Paolo Di Bala C'era anche Una cacata Sì C'era pure una cacata Esatto Vabbè dai Ci può stare Ci può stare Adesso il CC Come ti comporterai Prima hai detto Mi pare 10 mila Eh Minimo 40 mila Ah Wow Avanzavo 300 mila Bravo Enzo 40 mila Niccolò Barella C'era Loftus Che Secondo me Questa è una belva C'è anche Marchissimo A Barella Vicino a Bove Che ne pensi Si può fare ATT Oppure AD Che vuoi fare prima Facciamo prima Facciamo prima Alla AD Vai Ok Vai AD Minimo Ma perché voglio essere buono 55 mila crediti AD 55 mila crediti Ho molta paura Andiamo Pulisic Bellissimo Ma Pulisic Quello che è uscito nuovo Si Pulisic Esattamente Zimicas Come cazzo si chiama sta versione Pionieri 350 mila Vabbè vai Me l'accollo Regà Me l'accollo Se può fare Dai Se può fare Ok 337 mila Allora Ne approfittiamo per Testarlo L'ATT Non buscerosi man Te lo dico eh Peccato Allora ATT Ti dico Minimo Ad essere buono Andrei 80 mila crediti Signori Andiamo 80 mila crediti Broly Non mi è uscito Broly Ma c'era Milito C'era Milito Però costava Broly questo qua Costa pure assai Però è forte È forte Sì sì Questo è bello forte Veramente E vabbè dai A livello dei crediti Mi è andata bene Voglio perché Abbiamo scelta la serie A Vabbè Perché penso che Giorgio vale VQ Ragazzi Qua sotto nei commenti Dovetevi indovinare Il giocatore diverso Che ho messo nella squadra Diverso da quello Che ho preso sul mercato Chi indovina Cosa succede Enzo Vince Una maglia autografata Da Fuse Gamer Va bene Ma diù Però occhio eh Solo uno può vincere Quindi Cercate di rispondere bene Eccoci qui La squadra è veramente Fortissima Esotica Perché c'è anche Bobe Occhio Perché l'easter egg Lo vedete Qui in mezzo al campo Occhio Indovinate Perché Signori Palo Non è Goal Enzo Partita di division rivals Se perdo Scarto Quindi occhio Vediamo la sua squadra No non ci credo La serie A Eh si Non ci credo Turam Turam Lautaro Non ci credo C'ha la noglumen C'ha la noglumen E diam Vai Vediamo se mi posso Andrei Fair play Dovevo Serie A Serie A Dovevo fare fair play Non ci credo Fuse Gamer Sulla fascia Eccolo Bobe Oddio Frate Eh ya Enzo E' serio Frate Frate Non ci capite Ti sto Dire a gire Bobe La tre quarti Quando lo vedo Da vicino Dico frate Fai schifo Polisic 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 Ma robove Mamma mia Mettile in mezzo Bello Mi fido eh Stai calmo Non ti preoccupare Enzo Enzo Mi fai Ma perché Pocerai a bobe Cambia gioco Non fa parte Della squadra A bobe Ma si Ma tutto rispetto Per bobe Però l'hanno fatto Scarso In coppa fifa Non mi interessa Deve giocare Vai brolin Ci sto pure di nuovo Boom Quara Oddio 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 Dovevi avanzare No Turam no Turam no Turam no Turam no Di mare Chi sto Ma fa schifo Un tuo club Mi Fa proprio schifo Fa per e per Perché l'hanno De potenziato E ma fa gollo Contra me Perché ha già Scartato Quare Enzo Serio Bro Frate Sono serio Sono serio Vai Non ci grido Non ci grido Nicolo Barella Non ci grido Paolo Di Paolo Di Paolo Di Paolo 1 1 Godo Fius Dalla Fius 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 Eccolo qui Il capello Sbarazzino Il capello Di Andrea Di Marco Basta però Eh Ma perché Aiss Sia Meno Io Vai Giù Ma come Sa fa Ma come Sa fa Che il Luturamme È così Forte Ma come Sa fa Dai Secondo tempo Dobbiamo andare Spingere Non è detto Non ci grido No Tutti Ma non Lui Ma Rai Frate Basta Fatte No No Pove Fatte Una volta Non può Fate No 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 Ma Togliamo Assurdo Ma Gli La togliamo Ce l'ha da mezz'ora Non ci grido Ma guarda che culo Via Stavo Ma Frate Ma Provo Sì 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 Mamma mia Paolo Mamma mia Mamma mia Bello 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 Ho rischiato No No Devo Rosso Giallo Non ci credo Ti prego Non segnare Paolo No Mamma mia Che cullo ha fatto Ma ci misero la coppia Ma perché Imprendibile Ma perché Non è zumbato Che l'ha dovuto Enzo vai All'ultimo Diamo tutto Ti prego Non posso scartarlo Vai Vai Boom Brulin Ma con marino Andrei Andrei Ma che c***o Vai 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 No No Vai giù Arrata pure a bove L'arrata No no Vai giù No 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 Bove Parawall Non concepisco sto gioco Non lo concepisco Non lo concepisco Ci ho fatto la weekend league Poi me l'hanno fatto idiota Me l'hanno fatto la settimana dopo A Turam Ma che succede Chi mi fa scartare Qua Poi ho visto Comunque sto gioco Non è buono Non siete buono Non siete buono Ma con marino Ma che maronna mia Che freddo Su gioco Che freddo Che freddo Guarda Com'è già perduto Com'è già perduto La cossina Un milione Bella e buona Ok vai giù Eeeh Ci siamo Vado a mettere Quara Non ci voglio credere Guarda Non ci voglio credere Non ci voglio credere Guarda come dove scartare Quara Guarda qua Devo vedere Nell'ESBC Aggiornamento Ora Mannaggia 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 Capò Quara Capito Nostro Mannaggia Eh andato No andrei no Ragazzi Se il video vi è piaciuto Mi raccomando Tanti mi piace Iscrivetevi al canale di Fius Eeeh Noi ci ribecchiamo In un prossimo video Bella ragazzi